E questa sera non poteva mancare Minuit Chrétien, nella versione inglese Holy Night, un canto classico che risale al 1847. Nella versione che ascolteremo questa sera per dubbio solista e coro, l'intreccio delle voci si fonde a ricreare il misticismo della Notte Santa. I solisti che ascolteremo sono Anna Di Pino e Gerardo Fronda, meglio noto come Cantique di Noël, ascoltiamo insieme Minuit Chrétien. Minuit Chrétien, c'è l'air solenella, come l'oglie desciandì giustano per effacere l'attaccio di Cinella e di San Pera le te lo curò attacceremo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.